Salve a tutti ragazzi, sono ZWX ed oggi sono qui con un nuovo video in cui vi smentirò alcuni rumors che sono usciti recentemente, soprattutto anche in Italia, riguardo un possibile DLC del single player di GTA V con anche un nuovo protagonista. Prima di cominciare vi ricordo di lasciare un piacere, ci vogliono solamente due secondi di cliccare il video del blu, lasciate un piaccio a pagina Facebook e seguitemi su Instagram, link nella descrizione, e inoltre iscrivetevi al canale se non c'è un carattere per altri contenuti. Troppo bello per essere vero. Il 21 aprile sono uscite queste notizie da un sito greco chiamato Busted e questo articolo italiano, ovviamente ne ho preso un a caso, perché queste notizie comunque girano in tantissimi siti come anche in alcuni video di youtubers italiani, addirittura anche popolari, e come dice questo sito greco, Busted ha riportato nuove informazioni sull'eventuale contenuto single player di GTA V di cui si parla da tempo, ed è anche vero che comunque questo DLC del single player se ne parla già da tempo. Dopodiché dicono che il sito Busted avrebbe affermato che secondo alcune fonti sia in lavorazione un DLC ancora non annunciato per l'ultimo gioco della Rockstar. Questa notizia non è stata confermata ufficialmente da nessuna parte e nessuno della Rockstar ha mai anche solo accennato a queste cose anonimamente. Si trattano solamente di informazioni provenienti da un sito greco. Questo articolo dice che la Rockstar Games sta lavorando ad un episodio con una struttura simile a Episodes from Liberty City di GTA IV che in realtà possedeva due episodi, ovvero The Ballad of Gatoni e The Lost and Damned. E l'unica cosa che avrebbero in comune, praticamente, tra Episodes from Liberty City e questo presunto DLC sarebbe che praticamente questo DLC che dovrà uscire sarà diviso in due episodi. Ed è solamente questo ciò che gli accomuna. Quindi non capisco nemmeno per quale motivo bisogna proprio scrivere con una struttura simile. Comunque, tralasciando questi dettagli, in uno di questi DLC ci sarà questo protagonista di nome Anthony Miller che girerà per le città di San Fierro e Las Venturas. E se andiamo a vedere questo articolo, già inizialmente solo a leggere la frase che ci dice che un sito greco proprio, di nome Busted, confermi queste cose, possiamo già da lì essere scettici. Però, mai dire mai, c'è comunque la possibilità che queste informazioni potevano essere credibili. Il problema è che le informazioni da questo sito greco, che si sono diffuse in vari articoli e notizie di YouTubers che hanno parlato di questo argomento, c'è un grosso errore. Se andiamo a cercare Anthony Miller, non compare niente riguardo la serie di GTA. Praticamente zero. E questo tipo nella serie di GTA è un molisiano, ovvero non esiste. Non ci sono Anthony Miller che sono comparsi negli episodi precedenti di GTA e quindi ci fanno chiedere Ma chi cazzo è questo? Da dove viene? Chi l'ha creato? In realtà, c'è una risposta a tutto questo. Un misterioso YouTuber di nome XXII, proprio con questo nome XXII, nella comunità internazionale ha rilasciato delle immagini nella comunità. E questa è un'immagine del presunto Anthony Miller. Questo sito greco, che ha fatto nascere questa notizia, questi rumors, ha preso proprio ispirazione da questa immagine e allo stesso tempo da questo canale, o meglio, dai contenuti di questo canale. Non so quali erano le intenzioni delle fonti iniziali che hanno creato questa notizia, perché ovviamente non è colpa degli YouTubers o dei siti di videogiochi italiani che ne hanno parlato, ma la colpa è tutta di chi ha inventato da zero questa cazzata, ovvero quindi le fonti completamente iniziali, che dovrebbero essere appunto di questo sito greco. Continuando con ciò che dice l'articolo italiano, parte importante del contenuto sarebbero poi le corse di cavalli e il casino, che aggiungerebbero il gioco d'azzardo al capolavoro di Rockstar Games. Sempre questa parte di notizia, la sua origine è ancora dell'articolo del sito greco. Quindi è proprio il sito greco a parlare di queste corse di cavalli e del casino, oltre che al resto delle informazioni di questi falsi rumors. Oltre a ciò, io penso che questa notizia sia completamente falsa, proprio perché ha scopiazzato tutto ciò che poteva trovare nel canale di questo misterioso youtuber di nome XXII. E allo stesso tempo, questo youtuber porta informazioni molto vecchie, che avevo pure personalmente trattato un anno fa o addirittura nel 2014, come ad esempio il codice che prova l'esistenza delle corse dei cavalli. E il problema è che questo codice che prova l'esistenza delle corse dei cavalli, è presente già da quando è uscito GTA V, ma ovviamente allo stesso tempo mai utilizzato e probabilmente messo completamente da parte dalla Rockstar. E per noi italiani può anche ovviamente impressionare, in quanto non tutti potrebbero ben capire il significato di questi video, molto brevi o comunque anche per la lingua che viene trattata nel video. E ciò può chiaramente confondere. In realtà vi posso confermare che tutto ciò che mostra sono cose vecchie, e sono anche codici vecchi che non dimostrano niente di rilevante sul presunto DLC in single player. E l'origine dell'articolo è solamente una storia inventata che ha preso ispirazione da questo strano canale YouTube. Purtroppo questa notizia in Italia si è diffusa quasi ovunque, ed è proprio per questo che cerco di far smentire questa notizia il più possibile. Ed è solamente il mio unico scopo, ovviamente non voglio attaccare chi ha trattato questa notizia, e non è per niente il mio scopo, sto solamente cercando di portare la verità. Quindi non date la colpa a chi ha condiviso questa notizia, ma a chi l'ha creata, ovvero a questo sito greco. Non date neanche retta a ciò che mostra questo YouTuber di nome XXII, perché fa video che non dicono granché in sostanza. Solo qualche codice messo un po' a cazzo per qualche seconda e poi è tutto finito. Giusto per renderlo misterioso e strano, insomma. Purtroppo, per quanto possa essere bello, non credete più a questi rumors oramai diffusi quasi ovunque. Quindi niente ragazzi, diffondete questo video con chi conosce già questi rumors, così potremo eliminare più disinformazione possibile. E detto questo, per favore lasciate un piacere, ci vogliono solamente due secondi a cliccare col bottone blu, lasciate un piaccio a pagina Facebook e seguitemi su Instagram, che ho c'è la deria Zwillix, link in descrizione, e inoltre iscrivetevi al canale se non c'è il canale per altri contenuti. Da Zwillix è tutto, ci sentiamo al prossimo video. Mai messo radici, le ho sempre fumate, mai avuto le ali, scarpe consumate, sempre fatto il mio, anche se non ci credevano in molti.